Tanto, tanto, tanto tempo fa c'erano le argomentazioni. Grazie ad alcuni graffiti rupestri, anche oggi, seppur con grande fatica, possiamo ricostruirne l'esistenza e la funzione. Pensate, servivano in una discussione o, usando una parola assai obsoleta, dialogo a portare avanti un'idea. Ci raccontano gli esperti che poteva verificarsi un fenomeno vivificante ed erotico come Rihanna che ti suona al campanello chiedendoti se può dormire da te. Perché, nonostante l'ambrella ha paura dei tuoni, mettendo sul tavolo due idee, poteva venirne fuori una terza migliore delle due di partenza. Erano, insomma, strumenti evolutivi. Oggi, al posto delle argomentazioni, se proprio non c'è una K47 a portata di mano, amiamo usare l'asfaltatrice. L'asfaltatrice, con la sua grande benna, fa di tutto per massacrare l'interlocutore. Scusate. L'avversario. Umiliarlo, sminuirlo, deriderlo, annichilirlo. E noi tutti contenti a leggere sui social. Conte asfalta Meloni. Meloni umilia Salvini. Salvini spernacchia Letta. Letta fa il dito a Renzi. Calenda veta su Berlusconi. E giù a ridere, a seconda della nostra aria di preferenza. E vissero tutti infelici, scontenti e senza un'idea pagarla manco tutto l'oro del reame.